Targhe alterne in costiera amalfitana, il provvedimento continua a dividere. Le restrizioni per tutti i fine settimane estivi, immaginate per evitare il caos, non convincono residenti e operatori turistici. In queste ore in prefettura Salerno il vertice con sindaci addetti ai lavori, con l'intento di apportare correttivi. Al microfono di 8 Channel i dubbi di chi in costiera amalfitana ci vive e lavora. Ho sentito qualche turista che si lamentava, perché è arrivato a Vitri e poi non ha potuto più proseguire per la costiera. Diceva, ma com'è questo fatto, a chi devo domandare, come devo fare? C'è comunque abbastanza confusione, anche se stanno adottando questo sistema delle targhe alterne, ma è il posto che porta a confusione, essendo una meta turistica. C'è più casino perché a noi manca il parcheggio, non siamo preparati per quanto riguarda questo afflusso di gente che vengono in costiera. Troppo le strade sono strette, il paese è piccolino e il traffico si fa sempre. La priorità è tutelare un territorio bellissimo ma fragile. Vedremo alla fine dell'estate se ha portato dei benefici o meno. Gli spazi sono quelli che sono, il traffico è un aumento, si sono potenziate le vie del mare, bisogna persistere su questa strada. Ora, a discapito dell'uno e dell'altro, questo poi lo diranno i fatti, l'importante è che bisognava adottare un provvedimento. Intanto, dopo il summit in prefettura, arrivano le prime modifiche al regolamento sulle targhe alterne, che dovrebbero accontentare un po' tutti, potranno circolare turisti con prenotazione e proprietari di case.